Sicilia, oltre 580 milioni di impatto economico DOP-IGP, un valore alla produzione che supera i 580 milioni di euro e una crescita del più 21,7% su base annua. Questo è il patrimonio delle produzioni agroalimentari e vieti vinicole DOP-IGP della Sicilia che si conferma la seconda regione del sud dopo la Campania per impatto economico delle filiere certificate. Questo è molto altro, riporta il diciassettesimo rapporto ISMEA-QualiVita che analizza i dati produttivi del 2018 del settore delle indicazioni geografiche italiane che per la regione Sicilia conta 62 prodotti DOP-IGP per quasi 16.000 operatori coinvolti nelle filiere. Il vino è il settore di punta con 31 prodotti DOP-IGP che nel complesso generano 522 milioni di euro per una crescita su base annua del più 23,1%. Guidano nel settore il terra siciliana IGP e il Sicilia DOP in grande crescita. Seguono Marsala DOP, Pantelleria DOP e Etna DOP, quest'ultimo con un buon trend su base annua. Fra le province guidano il settore Trapani 283 milioni, Agrigento 101 e Palermo 66 milioni. L'agroalimentare conta 21 prodotti DOP-IGP che nel complesso generano circa 61 milioni di euro per una buona crescita su base annua del più 11,3%. Il settore è trainato dal pistacchio verde di Bronte DOP e dal pomodoro di Pecchino IGP, cui seguono Arancia Rossa di Sicilia IGP e l'olio Val di Mazzara DOP. Buoni trend di crescita per l'olio Sicilia IGP, l'arancia di Ribera DOP e Carota Novella di Ispia IGP. Fra le province guidano Catania 19 milioni, Siracusa 16 milioni e Agrigento 10 milioni.